Grazie per la visione. Questo veicolo consente di visualizzare e regolare molte impostazioni della vettura in base alle preferenze personali. Dal menu Home del touchscreen, toccare l'icona delle impostazioni per visualizzare il menu a comparsa Impostazioni. Il menu a comparsa offre tre opzioni, Impostazioni Home, Impostazioni audio e Tutte le impostazioni. Toccare Impostazioni Home per modificare la visualizzazione della schermata Home. Toccare Impostazioni audio per regolare l'uscita e le impostazioni audio. La schermata Impostazioni audio consente di regolare i livelli di Bass, Treble e Subwoofer. Per eseguire regolazioni, toccare i tasti Funzione più o meno. Oppure toccare e trascinare il cursore di scorrimento nella posizione richiesta. Utilizzando i tasti Funzione freccia, spostare il punto focale del suono nel veicolo. In alternativa, toccare e trascinare il punto focale nella posizione desiderata. Toccare Tutte le impostazioni per selezionare tutte le opzioni di impostazione del veicolo. Il menu Impostazioni generali consente di visualizzare e modificare le impostazioni generali del veicolo. Da questa schermata è possibile modificare ora e data, display del touchscreen, impostare uno screensaver, modificare il pin principale e visualizzare le informazioni legali. Toccare Funzioni per visualizzare e regolare le impostazioni delle funzioni del veicolo. Per spostarsi verso l'alto o verso il basso nell'elenco, utilizzare la barra di scorrimento. Oppure scorrere il dito sullo schermo nella direzione desiderata. Toccare la funzione evidenziata, ad esempio Climatizzazione, per selezionarla. L'opzione Lingue e tastiere consente di impostare la lingua del sistema e il tipo di accento. È inoltre possibile impostare il genere, femminile o maschile, per i sistemi vocali. Selezionare tastiere per visualizzarle o aggiungerle. Tutte le schermate del menu principale consentono l'accesso alle impostazioni per quella funzione particolare. Tutti i menu delle impostazioni includono le opzioni Tutte le impostazioni e Impostazioni audio. Per ulteriori informazioni su queste e altre funzioni, consultare il manuale dell'utente. Per dubbio o assistenza, contattare il concessionario Jaguar Land Rover, che sarà ben lieto di aiutarvi.